Sì, avrete già capito, siamo qui per il tentativo finale, il tentativo che andrà bene, il tentativo che ci vedrà arrivare a 30 minuti Il tentativo che ci prenderanno a caccia in culo Adesso loro pingheranno 600 e non più 100 con picchia 999 Speriamo che questo ci aiuti a evitare le connessioni interrotte e niente Speriamo che siano 600 fissi io apprezzo il tentativo di zombie che il ragionamento e su è meglio un pic alto ma fisso che Seriamente non sanno scherzassi Scherzo è la mia linea questa è la mia linea Un mio dio questa è la mia musica ragazzi La tua linea di merda mischiata la mia E' un zombie sotto il culo Eh però forse così è più giocabile non lo so Si 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 A meno se non fa connessione interrotta Se non fa connessione interrotta si No in teoria no Ringraziamo A Belluno A Belluno Un po' su da Belluno A Belluno va bene la linea Ragazzi resistete 15 giorni e torna a Belluno e li pingo 70 80 e siamo a posto Oh bravo Quindi oh mio dio 15 giorni Posso fare un sondaggio Anzi di più di 15 Vai fai i sondaggi lancia un sondaggio Voglio fare un sondaggio Come sempre visto che poi mi dite che non li faccio Voglio sapere cosa Vi piace nelle custom map In senso cosa ricercate in una custom map ideale In una custom map come Connessioni migliori In una custom map come Giambu che mi hai lagato un attimo In una custom map ideale Ok cosa ricercate Ma sei vivo fra E' una domanda bella eh E' non c'è la torretta Ho perso tutto per colpa della torretta Ma non sei morto fra E' avrà avuto il secco in chance Si perchè vuol qui crevive mi ha dato la seconda chance E sono morto Io sono ancora vivo Apri giambu vai occhio occhio che quella porta non si apre Giambu corri 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 Oh mio dio come hai fatto a salvarti Madonna quanti ci sono Ok ciao Ok questa rianimazione qua la metto nella top Ma cosa c'è un quick live Oh mio dio scudo Sto prendendo tutto Ok venite qua avanti Trasportatemi che c'è un Decelebris Eh si aspetta un secondo che devo tirare su Arch Con il mio quick live e arrivo Dai niente più connessioni interrotte Comunque davvero la connessione è migliorata un sacco eh A meno Meglio 700 di ping che quella roba di prima Ragazzi non sono mai stato così tanto Orgoglioso di avere 700 di ping Oh ve lo mostro eh perchè non ci credete E' una manna E' una manna d'Arcelo Ok sono qui ci sono Giambu dove sei Ehm ci sei teletrasporto? Si si sono sotto Con Fra Evidentemente ti sei Eccoti la Giambu Non si riesce a risalire da la vero Eh non so tu come cazzo sei salito No mi fa percorrere tutto il cordoglio Regà dove siete? Ok 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 va bene non è un problema non è un problema Si Fra vai tu d'Arce D'affanculo Salve Arce Qua c'è una porta La porta Ok sono sopra Giambu Dov'è il Decelebris? C'è da qualche parte c'è una specie di poso giallo Un Qualcosa di giallo Comunque io ho visto adesso Giambu diventare pro di colpo dopo che siamo passati a 700 di ping Cioè Mai visto nessuno io Risultare così per sette Ma non ho fatto nulla No vabbè sei zero volte a terra Eh che ci vuole per il momento Eh che ci vuole Voi vediamo Voi dopo due secondi vediamo ripetizione di Giambu a terra Ah è proprio quello Giambu a terra Non ho 2.000 ragazzi Vado a prendermi una bibita gratis Cosa? Mele damage Ah si è il coltello L'instakill Più o meno Più o meno Ti aumenta il danno con coltello In teoria Ok non shot Oh zombie Che armi ci sono qua di sopra? Eh 8 granate Armi del cazzo in generale Niente Dammi questa Allora cercare il Decelebris C'è cosa è strana Non ho shotta Oh adesso apro il Decelebris appena appena mi arrivo a 2.000 Eccomi qua Non shotta Non li colpisce Non li colpisce Sono qua sopra ragazzi Ma dove va il Decelebris? Aspetta 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 Posso dire una cosa Posso dire una cosa Ecco 2.000 Jumbo Jumbo Zombie posso dire una cosa? Laggo così tanto che gli zombie non riescono neanche a colpermi Lo togliamo certo ragazzi Sì Meglio Eh non stai pingando tanto allora Ok andiamo avanti Io ho aperto qualcosa Vado giù e vedo cosa c'è qua sotto Zombie c'hai un zombie che ti non zomba Vivo Il mio del zombie che cazzo hai fatto? Hai visto che trick con la granata t'ho fatto? No perchè stai laggando per quello Lagga talmente tanto Ah io non laggo Sei tu che mi vedi laggare Io non laggo Si è esatto Non laghi quindi vai bene Bravo Vaffanculo Non mi devi soccorre In mezzo agli zombie che si trasporta Zombie del culo Comunque hanno tolto tipo la distanza della rinimazione qui perchè devi essere molto attaccato per rinimare eh Non è il lag non pensate che sia il lag non c'entra niente Ho armi del cavolo No 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 Fra vai via Fra vai via Fra vai via Fra vai via Io ho aperto il The Celebrate Jumbo Adesso dobbiamo solo andare a scoprire cosa si è aperto cosa è successo Trovo anche la c***o La c***o No 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 Si è aperta la porta qua ragazzi la porta qui l'ho trovata l'ho trovata Si è quella di prima che vi dicevo della base Quella è la sinistra La cassa C'è la c***o ragazzi Sì 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 Non ho punti Dove siete? Dove siete? Stiamo sotto Arriva gli zombie Arriva gli zombie Prendetevi un'arma subito No mi ha assurato Fra ragazzi Prendetevi un'arma subito Fra prendi quest'arma di merda e spara Spara gli zombie Spara gli zombie Ho cambiato la mia usp per una usp Che che ha fatto? Utile Che che ha fatto cassa? Prendete il suo bazooka Il nuke launcher Oh porca troia Mi si è suicidato Mi si è suicidato Mi si è suicidato Come lo vedo qua? Anche io l'ho preso No Mi sono suicidato Newk launcher No no Jambu non spararti sotto i piedi Spara tanto distante È un colpo solo Oh Newk Madonna quanta vita mi toglie Oddio io l'ho preso Io mi sono suicidato Jambu Un M4 col mirino Io mi sono suicidato Jambu Aveva un solo colpo di quell'arma Deve essere devastante La desertiii Ci pensa più Jambu Occhio Arce Fatemi fare un'altra cassa Ho finito tutti i colpi ragazzi Ho finito tutti i colpi Fatemi fare una cassa Ci stiamo andando a chiudere un casino Ci stiamo andando a chiudere Arce prendi quest'arma Fammi fare la cassa No c'erano le granate però Io sono a posto Ho M4 G36 Si ma non abbiamo Non ho più nulla Madonna mia non ho più armi Uuuu L'M249 Un mitraglione Madonna mia è devastante Madonna mia è devastante Che belle armi che ha sta mappa Grandi ragazzi Io ho G36 E l'M4 quindi No questo mitraglione è una figata Ho preso un mitraglione che è devastante Devo fare 950 Devo fare 950 Signor coltello 940 Se non mi fate fare cassa Se non mi fate fare cassa Vi s... Fatemi un'arma decente Mi un clown c'è un solo colpo Ma che cazzo di arma è? Io non so se sia Non so se sia derivata da Nadizombie 444 OHHHH Mio dio M60 Di Black Ops 1 Ragazzi E' un mischio E' un mischio E' un mischio E' un mischio tra Quella dell'isola Ti ricordi che c'erano i cecchini Arce sta arrivando qualcuno? E' Sai che fra io Mi sa che non arrivo Ma non così Pensavo più lontano Ah vai tu E' no sto provando Ma cazzo Sono tornato all'inizio fra Dio bono Il teletrasporto mi ha portato all'inizio Grande Jumbo Via Jumbo Cosa succede se salgo da qua? Arce Che dobbiamo andare via molto velocemente C'avevo uno zombie C'ho uno zombie dietro al culo Quanto ci metti a suonare? Oh l'ascensore Una 40 Arce saliti prego E' quello che sto cercando di fare Oh mio dio Ma è grande questa ma Zombie? Io salgo Io sono in ascensore ragazzi Salve Io sono tornato davvero prima C'è che vara morto Ma c'è che vara morto Ma c'è che vara morto Ma che cazzo me ne fonte di c'è che vara Dove sei zombie? Dove sei? E io sono sotto di te Ciao ciao Ma salve Oddio Ma qui Aiuto Siamo incasinatissimi Siamo incasinatissimi Siamo incasinatissimi No 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 Tranquillo al mitraglione Ho il mitraglione Chiudiamo qua dietro eh Bibita Ma ma Regà qua Sta arrivando merda Qui sta arrivando merda I need help No Eh ma vaffanculo Ma che fa C'è no no Vabbè Schifo Arrivo giù Ma sta mappa dai è impossibile No no Sta mappa è impossibile dai E' da scherzo Ma non esagerare Occidissima già un buocchio C'è avuto nessuno C'è Non puoi Uncino granate Puoi andare dietro un attimo Che ti arrivano zombie dietro al culo Quanti colpi hai sparato No no Quanti colpi hai sparato Non mi muoio Quanti colpi hai sparato No 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 Rianimatemi veloci Tutto il caricatore Spero Tutto il caricatore Spero Eh devo finito Non so cosa è successo lì Io esco Io esco basta Io esco Eh cazzo Non è colpa nostra Arce Non sai cosa è appena successo Tu parli senza sapere Non mi interessa No no Io parlo perchè avevo M4 G36 Io adesso esco Non gioco Sono senza jackson Senza niente Questa si chiama rage Ah di merda Si Questa è rage qui tu Arce tu ti devi convincere Che sei forte Esatto Ah che cazzo Non mi fai sparare a caso Non mi fai sparare a caso Ho preso una bibita In Ciamese Fatemi fare una cassa Fatemi fare una cassa Fatemi fare Arce scusa No no Arce Arce Lol Questa l'avete fatto A jumbo arrivo io Fra fra vai pure giù a farti cassa Arrivo jumbo Siamo andati ad incrocio Forse arrivo jumbo Siamo andati ad incrocio Oddio l'ho ripresa Dammi con l'arma di merda Ho ripreso l'arma di prima lol Sono senza giac Che mappa Che mappa Ce la faccio Ce la faccio Schizofrenici Oddio ce l'ho fatta Mappa di merda È il miglior ping No sono rimasto indietro bella È il miglior ping Che chi abbia mai visto Sono orgoglioso Sì sei quello che c'era più basso anche giallo Oh signore Signore c'ho C'ho Il lancio granate No non è vero Si c'ho lancio granate Come cazzo sentire Datemi un'arma Sì Questa si chiama l'arma forte Il Dragunov Forca vacca No dai lo zombie che mi spavano davanti No C'è il zio Jambu con il Dragunov Sono finiti Col Dragunov Jambu ti stanno inculando Sono finiti Qui non finiscono Jambu Non so se non hai capito Tu devi capire Che io ti disanimerò col Dragunov Non è vero Porca di quella troia vigliacca Mi sono serato una gavata nel culo Non potete Arte Jambu Vado su da fra Vado su da fra Ho il Dragunov No No Come faccio No No Ho tuttissimo Dragunov No fra Oh cazzo Oh cazzo Ma quando No C'è un'abilità Jambu Tiralo su per favore Quaker dive Quaker dive Quaker dive Che culo Oddio Asci scappoti stupro Scappa dove Scappa dove Scappa dove Ho fatto cassa io Ho fatto cassa io Ma mi spallano davanti alla faccia Ho fatto io Vai 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 Tu a tua tua Stardo Mi spallano davanti alla faccia Zombie di merda Che arma di merda ho preso Vaffanculo Che arma di merda ho preso Sto sprayando Sto sprayando Forte anche un po' eh Di chiama Un po' il giocatore forte Si chiama NPC Siete morti tutti quanti Spara No No Porca troia Arce non ho il Jack Non ho niente Non ho niente Non ho niente Arce C'è Jambu Ah no il Jack Non so cosa Forse sei morto Fra dove sei Sono in paradiso Si 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 Di istante Di istante Spara spara Jambu Spara Ok ti copro Sto cercando di coprire Bene 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 Sto cercando di coprire Ok Adesso le RPG sono imbattibili Oh cazzo 8 secondi respawno Secondi respawno Siamo imbattibili Ma perché c'è respawn giusto L'ha detto L'ha detto L'ha detto Siamo imbattibili Perché spawno davanti agli zombie Guarda guarda Siamo a 12 minuti ragazzi Siamo a 12 minuti Siamo quasi a metà Del nostro obiettivo Ma perché mi da un usp per un usp? Sì Comunque io Io vi ripeto Giù in basso No Ammo Se voi vedete in basso a sinistra Ci sono le bombe parts Quindi qua vediamo Ti lo soffrà Vai ti lo soffrà Ti lo soffrà Ti lo soffrà Ti copro ti copro Ma come ti copro con un RPG? Spara delle... Eh sì Eh sì Sono morto Giambu non morire Giambu Giambu gira Non ho più colpi No perché voglio ammesso una canzone Cos'è Cos'è sta roba Non farmi andare nelle impostazioni La 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 Ho fermi davanti per fare una cassa e ho messo una glassa Coprite ragazzi,coprite Coprite Devo togliere il labbio Io non posso coprire io sono fuori Me ne vado via Cos'è sta cosa? Senti qui Spero che non l'abbia a compiere Fatto l'ho basato Ma dai 3 2 1 Che canzone di merda Io l'ho basato Ma cos'è sto schifo Zombie devi smettere di scegliere le mappe Ma che cazzo Però lui si è convinta eh Si la sento bassa adesso Perché l'ho basata però E' sempre uguale Però è molto rompimento di palle E' sempre uguale Zombie zombie Ma tipo qualcuno ha tirato una donna Ma dai Ma il problema è uno ragazzi No non ci coso crede Mi siete trasportato uno zombie davanti Jambu dove sei Jambu dove sei Where are you where are you Sono nella stanza Dove è fra Dio buono non riesco a muovermi Chi c'è di vivo Nessuno Questa musica mi sta distruggendo Mi sta tritando le palle Basta Non ce la faccio più Jambu Jambu Ma perchè la Gavu Mi stai armando Jambu non so come ho fatto Andiamoci Non ci credo Non da quel lato però Zombie di nuovo sotto il culo Zombie zombie finisci il round Non c'è il round Lo so Posso venire Posso venire Jambu Ti tiro su No Ci sto provando a compirti come posso Esci buonidoni Ancora esci Ok Mi serve un'arma Mi serve un'arma Cazzo non ha caricato Donno sa musica di merda e basta Fra quanto tempo spawnato voi Ecco vabbè 36 secondi Allora ragazzi io giro un secondo Fino a quando non Oh 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 No devi girare per 28 secondi No No Second chance Second chance No 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 Si bugga Si bugga Si bugga Si Si Arceline Si è spawnato No No Sono spawnato No No Io Ero spawnato Gioco di merda Mappa di merda Ma si bugga sui bordi Si bugga sui bordi È colpa della musica È stata la musica Lui si bloccava sui bordi Vaffanculo No Ero spawnato No No Vaffanculo Oh ragazzi Andiamo con un ultimo tentativo Per il Road to 30 Sarà la parte 3 Forse del video Quindi arriviamo alla 5 Per questa custom map Che secondo me merita Perché è frenetica È frenetica No Non merita questa musica Non merita niente È la musica È finita Adesso è finita Adesso non attivate più la musica Fra non attivare la circola canzone E sempre si è scollegato Ma zombie Come devo ripetertelo Ho premuto F Ma che canzone Che canzone hai messo? Eh Dio Mix credo Perché ho premuto 5 Ah era Dio Mix Ah hai premuto F E anche 5 poi Quindi Ha laggato E perché non riuscivo a toglierlo Poi ho premuto un tasto 5 Perché Chi è cresciato comunque Faccio 5 E poi Ma faccio 5 E poi Ma faccio 5 Zombi mirini Grazie Grazie Grazie